Siamo in compagnia del dottor Carlo Fabri, che è primario di gastroenterologia dell'ospedale di Forlì e di Cesena, che oggi ci presenterà il suo libro dal titolo Silenzioso e altre modalità. È un libro che parla delle città, quindi di come il medico vede queste città, che è il medico che soprattutto è un uomo e un cittadino. Salve a tutti, sono molto felice di essere qua. Silenzioso e altre modalità è fondamentalmente una contrapposizione di due segnali completamente diversi. Uno è il silenzio e uno invece rappresenta tutte le altre forme di suono che ci possono accompagnare. È una forma di piccola provocazione. Ovviamente scende in campo rispetto a quanto è diventato importante per noi l'avere campo quando usiamo il cellulare. Nel senso che oggi abbiamo tutti nuove forme di dipendenza e queste colonizzano il nostro spazio. In questo senso anche tante forme di rumore. E questo è anche correlato a quello che è la salute di ognuno di noi, che è un po' quello che sta alla base del suo libro. Intanto volevo chiedere da dove è nata l'esigenza di scrivere questo volume? Da delle forme di analogia che si colgono quando ci si preoccupa dei sistemi e dei processi di cura. Oggi un termine che viene molto utilizzato e a volte abusato in medicina è quello di approccio multidisciplinare, ovvero che medici che hanno specialità diverse si mettono insieme per fare un programma di diagnosi e cura a certe tipologie di malati. Pensiamo, io sono gastroenterologo, mi unisco con il radiologo, con il chirurgo, a volte con l'oncologo, per decidere il programma di cura e quindi di accesso alla salute. Questo però può avvenire se trasliamo lo stesso tipo di concetto nella vita di tutti i giorni, nella vita in cui siamo fuori dall'ospedale, viva Dio, speriamo, la maggior parte del tempo. Ed è proprio lì che inizia il concetto di multidisciplinarietà sociale, di ecologia emotiva. Intendo dire che il bidello, il sarto, il maestro di scuola, chi si occupa delle nostre strade, chi si occupa delle nostre città insieme al medico, insomma qualsiasi figura ha accesso a percorsi di cura diventa in quel momento un medico. Il silenzioso ed altre modalità ha un'analogia che di nuovo diventa, può sembrare una forzatura, ma è un po' come se noi cittadini fossimo le cellule di questo corpo umano che è rappresentato dalla città. La città ha dei propri organi che sono il comune, la chiesa, la scuola, le nostre case, che non sono altro che gli organi del nostro corpo. Uno farà fegato, uno farà cuore, uno farà polmone, uno farà ginocchio e le strade, le autostrade, gli aeroporti, le ferrovie, sono le tuniche, i vasi sanguigni, il sistema elettrico che crea la comunicazione, il contatto, l'omeostasi, la democrazia tra i vari organi che è la salute. Quindi un'analogia tra città e corpo. E come si fa a sapere se questo corpo barra città è in salute? Intanto è la percezione del singolo perché esiste all'interno del nostro corpo un sistema che viene chiamato seconda pelle, cioè un qualcosa di distante dalla periferia cutanea che abbiamo e che ci fa sentire il vibrato di come stiamo insieme alla gente, di come camminiamo sicuri nelle nostre città. Lo si capisce semplicemente se osserviamo la presenza o meno di decoro. Decoro che non significa solo non gettare la carta per terra, ma significa anche avere il buon senso del sorriso, il buon senso del buongiorno. Credo che da lì si percepisca la cura che si ha in una città, l'ospitalità della città. Anche l'apparenza estetica di questa città influenza un po' quella che è la salute del cittadino? Sì, ma questo però non significa che il cittadino singolo si debba deresponsabilizzare. Il cittadino singolo ha la responsabilità di aiutare gli organi preposti alla cura tecnica della città e deve essere un supporto nel mantenimento di una ecologia della propria città. Quindi è il primo che si deve prendere cura e deve essere a supporto di tutti gli altri organi e tutti gli altri apparati pubblici e privati che hanno invece quello come obiettivo. In fin dei conti ognuno di noi deve pensare alla cura del proprio corpo e non delegarla interamente al medico perché altrimenti anche il medico non ha stoffa per prendersi cura di un corpo che non si vuole bene. Prendersi cura è un concetto molto molto importante per quanto riguarda la nostra salute, in questo caso anche prendersi cura della città, quindi viene data una certa responsabilità al cittadino che diventa anche una specie di curatore di questo ambiente. Assolutamente, ci sono molti cittadini che hanno delle funzioni straordinarie, pensiamo alle associazioni, ma pensiamo anche all'interesse che hanno i singoli nell'essere di supporto negli altri, negli animali, piuttosto che nell'ambiente. Oggi viviamo una vera e propria rivoluzione antropologica perché la tecnologia ha invaso le nostre vite, le nostre case, le nostre città e ha ritardato l'accesso alla relazione classica, alla chiacchierata, al pensare di come fare per incontrare un amico o per incontrare una persona con cui si spende volentieri del tempo. E quindi questo va considerato perché il rendersi conto è già una base di un possibile cambiamento. La medicina oggi è iper specialistica, c'è il gastroenterologo, l'endoscopista, l'ortopedico, il dermatologo e in ognuna di queste specialità ci sono delle sezioni, c'è chi si occupa dell'esofaco, chi del colon, chi della spalla, chi del ginocchio, chi di un certo tipo di dermatite, chi di nei. Ma ricordiamoci che il nostro ensemble è la fusione tra la mente e il corpo e di conseguenza tra una vita emotiva che con le sue vibrazioni va a determinare la nostra estetica, il nostro modo di comportarci, il nostro carattere, la nostra simpatia o meno. Ricordiamo peraltro che questo è un po' come il cielo, non ci svegliamo tutti i giorni nello stesso modo in termini di tristezza, in termini di spinta, in termini di gioia nei confronti della vita e questo cambia ovviamente anche la percezione che noi abbiamo di noi stessi ma anche la percezione che gli altri hanno di noi. Lei ha parlato del rapporto mente-corpo come un fattore fondamentale per la salute di ognuno di noi, quindi come avviene questo rapporto? Cioè quando è che c'è uno squilibrio e questo può provocare della malattia e come questo si rapporta anche a quello che può essere la vita sociale di una città? Il medico non salva la vita, il medico delle due cerca di anticipare, di creare dei presupposti perché il corpo non inciampi nella malattia attraverso la prevenzione cosiddetta primaria di evitare di educare al non eccesso e attraverso la prevenzione secondaria, pensiamo ad esempio a tutto quello che si fa per le campagne di screening oncologico. Ma in più il medico dovrebbe avere in mente due grandi padri, il primo è Ippocrate, un medico dovrebbe leggere il giuramento nel momento in cui diventa medico e Ippocrate ha un'intuizione molto semplice che la prima cosa che deve fare quando il corpo si ammala è cercare di decontestualizzarlo rispetto al luogo in cui la malattia si è verificata. Quindi crea il primo ospedale, nell'isola di Kos apparta il paziente, dopodiché 4.000 anni fa probabilmente lo curava con un po' di olive e con dell'acqua, quello erano i suoi farmaci. Abbiamo poi atteso tantissimi anni, pensiamo all'inizio del secolo scorso, quando un uomo illuminato che si chiamava Freud ci ha raccontato l'importanza della vita emotiva nella genesi della nostra felicità, della nostra nevrosi, della nostra depressione e perché no anche di quanto la vita emotiva possa nel tempo per un effetto di durata trasferirsi al corpo e generare una forma di malattia. Ricordo di aver avuto la fortuna di conoscere un grandissimo medico, esperto di medicina cinese che si chiama Carlo Moiraghi, che mi disse la medicina occidentale non si chiede mai quanta emozione c'è in un chilo di tumore. Come mai quel corpo ha deciso di allontanarsi così tanto dalla regola e dalla normalità? Freud in fondo non aveva inventato nulla perché ha semplicemente ripreso la forza e la potenza comunicativa delle tragedie greche, pensiamo al concetto di Oedipo, di Medea e di Electra e l'aveva ricontestualizzato in modo contemporaneo. Visto che stiamo parlando di rapporto tra mente-corpo e emotività e malattia, lei è al primario di gastroenterologia, c'è questo sapere comune che dice che l'intestino è il nostro secondo cervello. Lei cosa ne pensa di questa frase? Che tutti gli organi di scambio sono un po' il nostro cervello. Quando ci agitiamo respiriamo più in fretta e allo stesso tempo, quando abbiamo delle problematiche emotive ci si può chiudere lo stomaco o addirittura altre volte ci si può aprire. A volte ci svegliamo di notte, apriamo il frigo sperando di non essere visti da nessuno perché ci mangiamo qualcosa in piena notte, altre volte invece c'è addirittura una forma di chiusura nei confronti del cibo che è molto legato alla nostra vita emotiva. E questo lo capiamo sia nella gioia che nel dolore, mi si chiude lo stomaco sia se c'è un grande momento di gioia, l'Italia hai vinto i mondiali, mi sono innamorato, oppure mi si chiude lo stomaco anche se sono particolarmente triste, se ho una ferita, se ho un lutto che devo in qualche modo gestire. Quindi a segnali opposti l'intestino e il nostro corpo risponde con dei sintomi tra virgolette identici ed è lì che li dobbiamo andare a decifrare, dobbiamo stabilire una specie di glossario emotivo per riuscire a interpretarli e a gestirli. Come medico lei ha lavorato molto sulla prevenzione, su quella che è la cultura della prevenzione che dovrebbe essere secondo me anche molto incentivata nei nostri ospedali. Come ha lavorato e in particolare verso quali fronti? Sono uno specialista in gastroenterologia e in particolare mi sono sempre interessato di endoscopia digestiva, quello è il mio filone di ricerca. Mi rendo conto che quindi l'oncologia digestiva, un conto è cercare di gestirla una volta che la malattia è già manifesta e quindi ovviamente ho la fortuna di lavorare all'interno di un'azienda come quella della Romagna in cui i percorsi multidisciplinari sulle malattie oncologiche sono più che rappresentati e siamo molto stimolati nell'aderire a questo e c'è un insieme di professionisti estremamente consapevoli e umanizzati nel volere affrontare insieme questo tipo di, non di battaglie, ma questo tipo di percorsi che possono aiutare i malati e proprio per questo sappiamo anche come gli epidemiologi, i centri screening lavorano tanto proprio per fare in modo che ci siano degli strumenti per anticipare la malattia. Certamente per la donna utero e mammella sono fondamentali e per entrambi i sessi chiaramente il colon. Perché? Perché hanno delle piccole lesioni che possono essere decifrate, viste, prima che scatenino in sé per sé un tumore conclamato. e quindi ho lavorato per sensibilizzare la popolazione in particolare a fare lo screening del cancro del colon. In Romagna sono molto frequenti questi tipi di tumori? E se sì perché? Diciamo che in occidente il tumore del colon rappresenta la terza causa di morte ed è frequente sia nell'uomo che nella donna. Il perché in parte è legato alla genetica e di conseguenza dobbiamo sempre avere una piccola spia accesa in più se qualche nostro parente, specie se di primo grado, è stato affetto da un tumore del colon. Il tutto poi è facilitato dal fatto che la regione ha messo a disposizione uno screening che intercetta una fascia di età tra i 50 ai 69 anni e li invita ad aderire allo screening. Per cui dobbiamo guardare nella bucchetta delle lettere perché li troveremo l'invito. Una volta che abbiamo trovato questa lettera dobbiamo cercare poi di attivare il nostro percorso di diagnosi. Il perché poi in parte è legato agli stili di vita. Pensiamo a quello che è successo dagli anni 50 in poi. prima ognuno di noi sia che fosse uomo sia che fosse donna aveva l'abitudine al movimento. Oggi la vita è sedentaria. Prima non c'era la plastica, non c'erano i conservanti, non c'era la forzatura industriale. Il pollo fondamentalmente stava nei nostri cortili, non stava chiuso 24 ore su 24 con un proiettore puntato sugli occhi senza avere la possibilità di muoversi. Il pollo di oggi fa una vita straordinariamente triste, che non auguriamo a nessuno e noi alla fine è quello quello che ci mangiamo. Lei è vegetariano? No, assolutamente no. Mi piace la carne, cerco ovviamente di contenerne l'uso, cerco di non mangiarla più di una barra due volte alla settimana, ma mangio anche carne. Perché molti dottori consigliano di non mangiare carne oppure delle proteine animali. È evidente che più siamo vicini al mondo vegetale, più abbiamo garanzia di essere aderenti alla cura. Credo che ognuno di noi debba però cercare di non forzarsi e di trovare nella media di se stesso il proprio modo di vivere. E quindi fondamentalmente rinunciare all'abuso e quindi legarsi alla varietà. Lei ha parlato di stili di vita, anche quelli sono legati diciamo alla città, che un po' si riconduce al suo libro. Intanto, secondo lei quali possono essere degli stili di vita che possono aiutare nella prevenzione dei tumori? Oltre a quello dell'alimentazione di cui abbiamo già già in un certo senso parlato. Dedicare certamente una piccola parte della giornata a se stessi e quindi organizzarsi per fare un minimo di moto. Anche solo una passeggiata con le scarpe da tennis in modo leggermente veloce per 20 minuti, per 30 minuti è già un buon gesto. Il problema è che ci manca il tempo perché abbiamo tutte vite molto nevrotizzate, lo vediamo da quanto usiamo il clacson nelle nostre strade e di conseguenza questo è un aspetto in cui facciamo fatica a ritagliare perché dobbiamo portare i figli a fare sport, perché dobbiamo fare presto al lavoro, perché dobbiamo fare la spesa e quindi tendiamo sempre a giustificare il fatto che non abbiamo tempo per volerci bene. Che è un po' a prendersi cura di se stessi e volersi bene. Nel modo più assoluto. In più, l'altra rivoluzione antropologica che c'è stata è che oggi, al contrario di un tempo, i cibi più dannosi sono quelli che sono pronti all'uso. Nel senso che ovviamente i cibi industriali, i cibi ricchi di grasso, i cibi che non sono cucinati ma li mettiamo in un secondo al microonde e subito sono pronti, ci facilitano ovviamente la velocità della giornata, ma tante volte nascondono in sé il segreto del danno. Perché andare a fare la spesa, comprare verdure, cucinarle, gestirle in un certo modo ha un fattore che è il fattore tempo e che guarda caso la lancetta è quello che oggi costa di più. Lei ha parlato di prevenzione e so che ha fatto molte iniziative. La prima l'ha già detta che è Let's Screen, che è quella di promuovere lo screening del colon. Certo. Come viene utilizzata in Romagna? Cioè, ci sono delle persone, c'è un'alta percentuale di aderenza a questo tipo di screening? Le campagne di prevenzione sono fondamentali se cercano di unire più culture, quindi unire fondamentalmente le scuole, il mondo degli artisti, il mondo della musica, l'informazione medica, certamente può essere un veicolo che promuove l'adesione agli screening. In regione abbiamo sicuramente una buona adesione, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. In modo particolare, sia Forlì che Cesena hanno un'adesione leggermente minore rispetto a Ravenna e rispetto a Rimini. Ma per certo la nostra azienda, che è un'azienda unica, l'azienda della Romagna, sta cercando di impegnarsi molto per aumentare lo stimolo motivazionale all'adesione di queste campagne. La tecnologia è fondamentale per quanto riguarda lo screening e la prevenzione. Come sono messi i nostri ospedali, quello di Forlì e di Cesena, per quanto riguarda la tecnologia utilizzata? In generale direi che in Romagna abbiamo la possibilità di lavorare con dei livelli di tecnologia straordinariamente alta e in particolare questo lo possiamo fare anche a Forlì e a Cesena. Ma dirò di più che è nata una gara voluta dalla nostra azienda per l'acquisizione in tutta la Romagna di nuovi endoscopi di ultima generazione. E questo diventa fondamentale perché abbiamo la possibilità, specie quando facciamo screening, di intercettare delle lesioni quando sono ancora molto molto piccole e quindi bonificabili e quindi asportabili anche nel momento stesso in cui si fa il gesto della prevenzione senza ovviamente nessun trauma di tipo chirurgico. E con un numero limitato, molto limitato di complicanze che certamente supera il rischio di lasciare lì un certo tipo di lesione. Torniamo al suo libro, dove si può comprare? Sa che non lo so perché in realtà è un libro che è stato scritto circa un anno fa, è un libro in cui devo ringraziare Era perché mi ha dato la possibilità di portare avanti un progetto che prevedeva da un lato il libro che è un po' anche fondamentalmente una carezza che ho fatto a una città che amo tanto, che è Bologna, perché ho vissuto sempre a Bologna, ma in realtà i contenuti del libro sono riproducibili per qualsiasi città di cui noi parliamo. Pensiamo a un quadro meraviglioso che è quello della città ideale, di cui peraltro non sappiamo ancora bene chi è l'autore, se è Piero della Francesca, addirittura un pittore di Forlì, è stato considerato tra i possibili autori di questo meraviglioso quadro che ha Urbino, ma il libro era unito a un'idea di rendere un po' più accogliente le campane che prevedevano la raccolta del vetro, quindi era uno stimolo a fare la raccolta differenziata, è un libro comunque che lo si può certamente ordinare, ma non penso che stia colonizzando la Feltrinelli, non abbiamo questo tipo di ambizione. Ha qualche altro libro in cantiere? Ho un libro in cantiere, sì, ho un libro in cantiere che spero di finire entro i prossimi sei o sette mesi, devo dire che questa nuova attività, questo nuovo lavoro mi sta felicemente impegnando tanto e quindi sto sacrificando altri tipi di attività. Perché lei è da poco arrivato nei nostri ospedali? Sono arrivato dal 10 di settembre. Come si sta trovando qua? Mi sto trovando in modo meraviglioso, sia perché ho trovato un livello tecnologico estremamente alto, ma soprattutto perché ho trovato un insieme di operatori sanitari, da infermieri, amministrativi e colleghi medici di grande valenza professionale e di grande potenza umana. Per cui mi è stato facile circondarmi velocemente di amici con progetti comuni. E quindi siamo un gruppo di persone che penso vadano a lavorare molto contenti alla mattina. Un'ultima domanda, visto che stiamo arrivando alla fine della nostra trasmissione, qualche progetto che è rimasto nel cassetto che vorrebbe realizzare magari nel prossimo anno? Mi interessa molto continuare fondamentalmente ad occuparmi della vita fuori dall'ospedale e di conseguenza progetti che tendono a fondere il mondo della creatività con il mondo della salute è un qualcosa che mi stuzzica. Bene, ringrazio il dottor Carlo Fabri per essere stato con noi e i nostri telespettatori per averci seguito. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi. Grazie a tutti.